Il Governo ha stanziato 45 milioni di euro che permetteranno di realizzare aree Wi-Fi gratuiti su tutto il territorio nazionale per superare l'isolamento digitale e fermare lo spopolamento. In particolare in Calabria saranno 186 piccoli comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti che potranno fare richiesta di questi punti Wi-Fi direttamente online registrandosi sulla nuova piattaforma web accessibile dal sito wifi.italia.it. 70 saranno i piccoli comuni della provincia di Cosenza ad essere interessati da questa opportunità 38 in provincia di Catanzaro, 45 nell'area metropolitana di Reggio, 9 in provincia di Crotone e 24 in provincia di Vibo Valencia. E sono Arena, Brognaturo, Capistrano, Dasà, Filandari, Filogaso, Francheville Angitola, Francica, Mongiana, Monte Rosso Calabro, Nardo di Pace, Parghelia, Pizzo, Nipolia, San Nicola da Crissa, Simbario, Sorianello, Spadola, Spiling, Vallelonga, Vazzano, Zaccanopoli, Zambrone e Zungri.